Corsi numerosissimi. Siamo certi che pioggia o meno stasera sarà il pubblico a fare la differenza. Speriamo quindi che il calcio giocato faccia un'ora e all'ora entusiasmo. Il Camp Musco oggi ancora una volta è vestito dalle grandi occasioni. I colori blaugrana salutano l'ingresso in campo dei giocatori. C'è il quisco dell'arbitro e fallo. Ah certo, i miei sono falli. I miei sono sempre falli, i suoi no. Saduname. Vabbè dai. Guarda. Ha! Ha già i giocatori appostati. Cioè non c'è niente da fare. Dove tiro tiro? C'è sempre qualcuno, guarda. Poi arriva lì, contropiede, gol. Colpisce il pallone. Sì, ma dai, ma... C'è ma la... Sì, va bene dai. Cioè i miei sono morti. Cioè confronto a questi quei miei sono morti. A questo punto, passo agile e inarrestabile, tempismo perfetto e conclusione vincente. Magnifico. Grande freddezza, grande tecnica nella sua azione personale. Ha fatto davvero tutto alla perfezione. 3-0 dunque. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per... Torres! Poi, va il tiro in porta, para. Cioè tanto per cambiare, no? Ci stanno provando. Un po' da tutte le posizioni. Evidentemente non vogliono ancora darsi per via. Prova Salah. Pericolo in aria. Prova il tiro! No, ma... Cioè non è possibile, dai! Ma non esistono roba del genere, dai! Non vedi che è gioco buggato! Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. Guarda di testa! Ballone che finisce alto. Quadrato. Il Barcellona, da qualche minuto, ha stretto le maglie in difesa. Guarda. Cioè tiene... I giocatori... Cioè rimangono lì! Non l'agnolio e la tiri via dai piedi! Sì, vabbè, mi sta cercando ancora la palla! Ah, guarda che velocità! Guarda! Guarda! Guarda che velocità! Ma come c***o fai a giocare? Dai! Ma sì, dai! L'avversario ha avuto... Guarda! Va avanti! Guarda! Prova ad andare! E continua, eh! Continua! Va! Poi fallo! Ahahahah! Ma dai! Sì, vabbè, dai, dai! Dobbiamo anche provare una conclusione diretta. Ecco che ci prova! Un gol incredibile! Sì, vabbè, dai, ok! Sì, è straordinario! Ma come ha fatto? Una giocata perfetta! Un 1-2 veramente da K.O. E ha sfruttato alla grande questa occasione. Tecnicamente perfetto, non c'è che dire. Ha messo la palla esattamente dove voleva. Beh, l'inerzia era per Torres! C'è un gol! Ma... ...è stato perfetto. ...andava marcato stretto. Difficile immaginare che riescano a rifarsi, ma è un gol che... Guarda! Se mi butta giù e mi spinge, l'abito non f***a! E il portiere la fa sua! Ma da come corrono i suoi? Guarda! Guarda! Cioè, non faccio a tempo arrivare lì! Ma come... ... Palla di nuovo sotto il loro controllo! Ah dai, il mio si ferma! Ma no, ma no! È possibile, dai! Cioè, non è possibile un gioco così! Cioè, non può esistere, dai! Cioè, non è calcio questo qui! Questo qui è... ...e slot machine, dai! Che tentativo! Guarda! Poi la prendo e mi butta giù! Lungo passaggio in avanti! Guarda! Ed è velocissimo anche a tornare indietro! E cosa ti credi? Ecco Fernando Torres! Sì, va bene! Il casso irregolare e dunque calcio di punizione! Mamma ragazzi! Guarda! Cioè, no! Ma neanche la punizione riesco a tirare! Sì, va bene! Mamma ragazzi! No! Ma... Ma io non capisco i ragazzi come fanno a spendere migliaia di euro su sta ciofeca che è, dai! Cioè, i suoi continuano a correre! Corrono! Basta! Cioè, non ha... Stamina ha 3.000! Questa partita È essenziale che nella ripresa scendano in campo con la giusta determinazione cattiva Guarda! Cioè, ne passo uno! C'è subito l'altro! Mi somiglio negli immortali persiani! Sì, è un gioco con la verticalizzazione Vitzel C'è fallo Ma... Eeeh, ciao! Eeeh, ciao! Sì, vabbè, dai! Ma... Ma... Mateus Goretzka Messi Mbappé Messi Messi Allarga il gioco sulle fasce Mateus Cerca di pescare il compagno col filtrante Guarda! Un passaggio che non... Non riesce neanche, dai! Sì! Ma è sempre... Cioè, è da tutte le parti questo qua, eh! Guarda! Cioè, non riesco neanche a tirare che me la tira via dai piedi! Sì! Ma no! Ma no, no, no! Cioè, non è... Cioè, è irreale questo gioco qua, dai! È surreale! È surreale! Non è infierire su una difesa che fa acqua da tutte le parti! Se la difesa fa acqua, ma... Ma se... C'è! C'è! Ma va!